Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art, siamo ancora una volta su Bussimulator, vi sta piacendo questa serie quindi la continuiamo e stiamo per affrontare il terzo capitolo di questa sfida che ci ha offerto la signora Mira e Ted. Allora dovremmo fare la linea 2 che è questa qua sostanzialmente, no un secondo, seleziona linea, route 2, beh, ah guida ora perfetto e dobbiamo farla col sitaro, eccolo qua, accetta l'autobus selezionato. Quindi, noi non ci perdiamo in chiacchiere e proseguiamo subito ragazzi, ma mi raccomando prima ancora di proseguire lasciate like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordo anche che vi lascio in descrizione il link per seguirmi su Instagram, Twitch e Facebook, no non è vero Facebook no, la mia wishlist di Amazon si però, e partiamo subito. Allora abbiamo il freno di stazionamento, lo leviamo subito, questo sta andando a rallentatore, eh grazie eh. Perfetto, andiamo, andiamo, andiamo verso la prima fermata, comunque la velocità ce la segna sulla sinistra che è una cosa scomodissima perché devo staccare gli occhi dalla strada, ma vabbè. Siamo a 25 miglia per ora, io vorrei onestamente chilometri orari. Ciao, sono Mira, spero stia andando tutto bene, io ho già preparato i prossimi passi e voglio rappresentarteli qualcuno, la inviterò alla chiamata. Sono la portavoce per il turismo e la cultura, è un vero piacere conoscerti, non vedo l'ora di poter collegare tutti i luoghi di interesse della città. Vabbè, questo chiudo il biglietto, iniziamo con West Oakwood, il cuore della vita notturna della città e sarebbe bello se la gente potesse tornare a casa in autobus dopo una serata a flori. Scusami, che è successo? Che cazzo vuole io? No! Mannaggia, si è creato un macello qua. Allora, un passeggero blocca la porta. Questo vuole. Biglietto ordinario. Perché me lo segna come errore? Maledizione. Giornaliero. Due. Vai. Devo dargli due euro. E sessanta. I hate to be a nuisance, but could you please lower the ramp? Ah, sì, mi scusi, signora. Ha ragione. Non me ne ho reso conto. Dovrebbe essere uscita, teoricamente. No, questo non è. No. Eccola qua. Eccola qui, l'abbiamo fatta. Un passeggero blocca la porta. Allora, voi mi dovete far incazzare. Allora, mi faccio vedere il biglietto. Ma perché fa uso il sedile? Maledizione. Questa è una scomessa. Sì, ti puoi levare dalla porta però, zia. Vediamo se c'è qualche furbo. Oh, sì, sei sul bus giusto, non ti preoccupare. Allora, apri il menu mappa, di nuovo. Crea linea. Vabbè, scusami, fammi finire prima questa. Che cacchio. Svolta là. Era verde, era verde. Era verde. Non c'è dato manco la multa, infatti. Mazza che botto. Ma questa non è fermata, quindi niente. Olè. Dobbiamo girare a sinistra adesso. E ti muovi, ma porca vacca. Con sta carretta degli anni 50. Anzi no, dobbiamo fermarci qua. Uno, due e tre. Allora, calma, faccio un primo biglietto a questo. Allora. Mannaggia. Ordinario. Lo segna come errore. Ordinario. Giornaliero. Uno, vai. 6 e 20. Ma che cazzo vuoi? Biglietto anziani. Giornaliero. Uno, vai. 4 e 60. Allora, ordinario. Giornaliero. Uno, vai. Oh, la madonna. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ok. Ok, nessuno più vuole i biglietti. Quindi, muo, facciamo una bella cosa. Si è aperta la rampa, no? Vabbè, niente, non si è aperta la rampa. Pazienza. Ok, ce ne andiamo. La signora ha detto che dobbiamo usare il segnale, l'indicatore di direzione per uscire. Ci ha rimproverato. Ha ragione la signora, mi scusi. Guarda questo. Eoh, e te muovi! Che dobbiamo lavorare qua? Il passeggero deve scendere. Tieni. In ritardo. E vabbè, che devo fare? Allora, ordinario. Corsa singola. Uno, vai. Due euro e ottanta. Entrate, entrate. Anziani. Giornaliero, vai. Va bene. Questo zero. Ci ha dato i soldi giusti, meno male. Dai, c'è qualcuno fuori? Si va. E mannaggia, e tutti devono scendere. Olè. Olè. Un po' garibaldina, ma va bene. Ok, le rampe. Perché la blocca? Allora, in frattempo, questo vuole anziani. Lo segno come errore. Corsa singola. Tre. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Vabbè, ora andiamo a picchettare questo. Allora, vorrei chiedere un'assistenza tecnica con... Oh. Beh, quindi? C'è qualcuno che blocca? Due. Due. Beh, e perché non scende? Maledizione. No, aspetta, mi sono bloccato. Qualcosa la blocca, e porca puttana. Ah, quindi bisogna essere sollevati. Allora, biglietto, biglietto. L'abbiamo pizzicata, una. Signorina, non faccia finta di niente. Mi faccia vedere il biglietto. Anche lei? Grande. Eh, vabbè, zia, eh. Non mi ricordo mica di tutte le persone che stanno sedute. Mannaggia al cazzo. Possiamo andare? Ok. Allora, adesso dobbiamo andare a sinistra. Dai, andiamo, andiamo. Ah, questa è l'ultima fermata. Molto bene. Vabbè, è in ritardo, però a parte quello... Siamo a posto. Ok, abbiamo guadagnato... Qualcosina. Tieni premuto zero per interromperlo? Che significa, tieni premuto zero? Allora, vabbè. Non ho ben capito. Ah, ma... Quindi mo' guida lui? Vabbè. Allora, nel frattempo che ci facciamo scarrozzare in giro, dobbiamo creare una nuova linea. Allora, dobbiamo creare... Allora, dobbiamo creare... Ehm... Gettidrive. Ok. La selezioniamo come prima fermata. Poi selezioniamo Sintentoni. Per finire, poi... Questo code. Vabbè, ci dice lei sostanzialmente quello che dobbiamo fare. Vuoi assegnare automaticamente il bus disponibile a questa linea? Puoi personalizzare l'assegnazione? Sì, facciamo sì. Trisha ha perfettamente ragione. Guidiamo sulla nostra nuova linea di notte e godiamoci il cuore pulsante della vita natura di Angel Shores. Ce lo facciamo adesso? Che dite? Avanzamento a tempo. Facciamo le 20, va. Ehm... L'autobus? Scusami, a fino a che ora devo andare? Ah! Tra le 22 e le 24. Ok. Eh sì, ma il bus dov'è? E' scomparso il bus. Si c'è inculato il bus, signori! Mi perdoni, eh? Io no, non è che voglio di... Ah, ok, sta arrivando, sta arrivando. Allora, seleziona linea linea 3. Guida ora. Ah, mettiamo... Ah, mettiamo... Ah, ok, sta arrivando il manno. Ok, ok, ok. Eccolo lì. Eccolo lì. Ma no, non sta arrivando manco per niente. Ma... Allora, innanzitutto noi dove siamo? Allora, c'è un autobelox? Allora, seleziona linea. Linea 3. Me lo prendo ora. Sì, annula la linea attuale. Oh! Applicuto. Allora. Questo vuole... Biglietto anziani. Che mi segna come errore. Corsa singola. Vai. 3 ore e 20. C'è qualcuno che apprezza il design del nostro bus. E andiamo, va. Allora, sostanzialmente abbiamo sbagliato strada. Vabbè. Facciamo di corsa, proprio. Marciapiede! Dovevamo andare dritti. Ma mi diceva di girare. Ok, sì, lo so che ho preso in marciapiede. Ah, l'altro combare! Guardalo! Ok, adesso è arrivato l'altro autobus pure. Dai, compà! Dai, su! Bello, però, sto fatto che... Ci si può trovare, no? Eh, sta a fare biglietti, quello. Lo dico io. Fuori orario. Eh, lo so, caro mio, però... Che ti devo fa? No, aspetta, c'è la... Ragazza disabile. L'ho vista che sta là, infatti. Allora. Ce l'ha segnato come errore, vabbè, è matematico. Giornaliero... Uno, vai. Grazie. Non dobbiamo dargli niente. Allora... Ordinario. Corsa singola, due. Ti è. Quattro e quaranta. Ho sbagliato. Anziani... Corsa singola... Un euro... Tre euro e venti. Ok. Ancora? Ancora? Damo, se va. E so... So chiuse le porte, non ti preoccupare. Un incrocio non si capiva un cazzo, eh. Ah, sì, che relax, eh. Guidare i pullman. Questa fermata non è la nostra. Stiamo andando a 39 migliorari. Questo è perché si è fermato, che siamo a fare spento. Beh, ci ha dato l'errore di svolta guidando il rettilineo, ma... Vabbè, per il resto, ok. No! Dai, che sono già in ritardo! Vabbè, che botto! E mo? Vabbè. Fa niente. Dai! Allora... Biglietto anziani, avevo qualunque cosa, clicchiamoci dall'errore. Corsa singola... No, uno. Tacci, dei pippo, signo... Magari vieni con i soldi giusti. Ho sbagliato. Allora, ordinario, corsa singola... Singola, uno. Zero, vai, vai, vatti in. Ordinario, giornaliero, uno. Ah, brava la signora, coi soldi giusti. Dai. Ok, abbiamo usato l'indicazione di direzione. Abbiamo fatto un botto un po' con l'altro ragazzo lì. Di notte è molto carino, eh, bisogna dirlo. Fatto benino, graficamente. Non è eccellente, però. Mi sa... Che è l'ultima questa. Sì. La ragazza con la carrozzina è scesa? Oh no! Allora, controlliamo anche i sedili, perché spesso la gente lascia qualcosa su... ...dimentica roba. Abbiamo fatto 62%. Non ho capito che cazzo è quel simbolo, onestamente. Ma vabbè. Allora... Torna a Jetty Drive. Ok. Ok, mi sa che è rosso. No, sono semplicemente degli idioti che si fermano. Ci dovremmo fare un po' di strada senza fermate. In effetti qualche fermata per tornare. Potevano anche mettercela. Guarda questo. È l'anime kit e vive! Sto taxi del cazzo. E si ferma pure! Altri 200 dollari, mannaggia la miseria. 200 euro. Eh vabbè. Abbiamo fatto qualche danno di troppo. Ok. Eccoci arrivati a Jetty Drive. Ehi, capo, sono Steve. L'autista che sta percorrendo l'altra linea ha chiamato dicendo che non dino sentirsi bene. Puoi subentrare tu? Comunque, se vuoi sapere quando arriva il prossimo autobus, basta guardare gli orari. Va bene. Allora, adesso abbiamo un problema, ragazzi. Allora, abbandoniamo il sedile. Aspetta, ma glielo spegniamo adesso, no? Allora. Com'ha fatto brutto. No, signori. Eh, non è... Non è libero. È spento. È chiuso, signor... Ma perché siete entrati? Ah, ok. Per lasciare la linea. Tiè. È venuto l'altra... L'altra autista. Perfetto, perfetto. Allora. Crea una linea che contenga questa fermata e assegna uno dei tre bus, ok. Allora, dobbiamo prendere il controllo del bus Lion City, TMA-47, tra l'altro conducente. Percori la Route 1, ok. Allora. Va bene, ragazzi. Allora, noi per questo episodio ci lasciamo qui. Ci vediamo nel prossimo. Abbiamo un problema, nel senso che abbiamo troppi pochi autobus e troppe linee, quindi dovremmo fare qualche acquisto. Io vi ringrazio della visualizzazione, vi raccomando di lasciare like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella di avvisi per rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo al prossimo video. Vi lascio in descrizione anche il link per seguirmi su Instagram. No, aspetti, signora. Mettiamo pausa. Dicevo, vi lascio in descrizione anche il link per seguirmi su Instagram, Twitch e la mia wishlist di Amazon, qualora vogliate farmi un regalo. E noi ci vediamo alla prossima. Un bacione, ciao a tutti.